Come parte del progetto Caliper stiamo realizzando una serie di interviste con donne che lavorano nella ricerca e nell'innovazione STEM e che possano essere di ispirazione per le studentesse e le giovani ricercatrici. Esploriamo ciò che le ha motivati a scegliere la loro carriera, le loro esperienze e gli ostacoli che hanno affrontato. Mi chiamo Simona Martano e sono dottoranda in fisica e nanoscienze all'Università del Salento. Dal mese di ottobre ricopro la posizione di assegnista nel campo della comunicazione e governance del progetto europeo BioPenLab in partnership con Area Sense Park e l'Università di Salerno. È un vero piacere per me quest'oggi introdurre Adriana Albini, docente di patologia generale presso l'Università Milano Bicocca e collaboratrice scientifica dell'Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano. La professoressa Albini è presidente dell'associazione italiana Top Italian Women Scientist presso la fondazione osservatorio nazionale sulla salute della donna, Onda, che sostiene le donne nella ricerca. Compare nella lista BBC delle 100 donne più influenti del 2020, ponendo in risalto coloro che hanno promosso il cambiamento e che hanno fatto la differenza in tempi difficili. È stata la prima donna italiana eletta nel Board of Directors dall'American Association for Cancer Research ed è tra le scienziate italiane più citate. Oltre alla sua carriera è anche una campionessa di scherma, conquistando una medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo per veterani 2018 e l'argento al campionato europeo del 2015. Adriana, grazie per aver accettato di parlare di te e del tuo lavoro. La tua ricerca sembra affascinante, puoi darci un'idea a riguardo? Grazie Simone per la presentazione e per l'invito, mi fa molto piacere parlare con una giovane scienziata. La mia ricerca in realtà nasce dalla chimica perché io sono in chimica organica o indirizzo biologico e mi è sempre piaciuto studiare le molecole, sia quelle del corpo umano che quelle che possono servire da farmaci. Quindi il mio percorso è stato un po' quello di studiare le sorgenti possibilmente naturali di nuovi farmaci, in particolare nel campo dell'oncologia, della prevenzione oncologica, partendo anche dal fatto che la chimica organica spesso è la stessa cancerogena e quindi la mia call, la mia chiamata alle armi è nata anche un po' perché ho visto il doppia faccia della nostra materia. Certo, parlando proprio del tuo background, dove sei cresciuta e dove hai studiato? Io sono un po' cittadina del mondo e soprattutto dell'Italia perché sono nata a Venezia e mia madre era veneziana, mio papà invece ligure. Sono poi cresciuta a Firenze perché mio padre lavorava in biblioteca nazionale, lui era un grecista e poi ha vinto la cattedra a Genova e quindi ci siamo spostati a Genova quando avevo 14 anni. Poi da lì, dopo aver studiato all'Icio Classico e aver fatto chimica, ho vinto una borsa di studio per andare in Germania a lavorare all'Istituto di Biochimica di Monaco di Baviera. Sono stata tre anni e mezzo, poi mi hanno chiamato negli Stati Uniti a lavorare per l'Istituto Superiore di Sanità americano nella capitale e poi sono rientrata in Italia, quindi sicuramente abbastanza nomade. Poi anche in Italia dopo mi sono spostata. Certo, ma quali fattori ti hanno portata ad intraprendere la tua carriera? Più nel dettaglio anche chi sono le persone che hanno avuto il maggior impatto sul tuo lavoro e sulla tua carriera? Mi è sempre piaciuto tantissimo l'aspetto della natura. Dico che le stati passate al Lido di Venezia, quindi con un ambiente molto vario di sabbia, di dune, di mare, mi ha incuriosito rispetto alle dinamiche appunto tra gli organismi, le piante, gli animali marini e la salute un po', anche diciamo la pulizia delle spiagge. Ho deciso quasi fin da subito che volevo fare la scienziata, anche se mi piaceva scrivere, per cui c'era sempre la tentazione di fare la letterata come mio papà. Però sicuramente mia mamma era laureata in matematica e lei era un punto di riferimento per quello che riguardava la mia curiosità scientifica. Certo, sei stata inserita dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2020. Cosa ha significato per te questo riconoscimento e quale impatto ha avuto sulla tua carriera? Il 2020 è stato l'anno del Covid diciamo e questo è successo che quando ero negli Stati Uniti e lavoravo sulla ricerca oncologica iniziò a diffondersi l'AIDS. Allora non si sapeva neanche qual era l'agente causativo e molti di noi fummo messi a lavorare sull'AIDS e ci fu quindi un grande contributo della comunità scientifica. Quindi come ha iniziato a starpeggiare il Covid e noi siamo stati i primi a essere colpiti, mi sono un po' lanciata in una battaglia per i finanziamenti, per sentirsi e comunicare nella comunità scientifica. Ho scritto agli amici e le amiche che allora hanno lavorato sull'AIDS per vedere se potevamo tirare fuori qualcosa della nostra expertise che fosse utile nella battaglia al Covid e in questo coinvolgendo anche le mie women scientists. Questi appelli si sono diffusi a livello nazionale e internazionale e siamo riusciti a fare tantissime ricerche nel mondo con sicuramente un input femminile anche se le donne vanno meno in televisione ma hanno dato dei contributi importanti e quindi in qualche modo la BBC che scrina diciamo il web è arrivata questa diciamo febbrile attività anche di petizioni per la ricerca Covid. Difatti sei una forte sostenitrice della promozione della ricerca condotta dalle donne, perché questo impegno è importante per te? Le donne spesse e volentieri nella ricerca scientifica e nelle professioni STEM diventano invisibili o forse sono invisibili e non si materializzano e questo è un fenomeno che ha varie spiegazioni ma va combattuto, ecco bisogna lavorarci un po'. L'idea è nata diversi anni fa, direi una decina, quando usci una specie di hit parade degli scienziati, è basata sul numero di citazioni diciamo per articolo, quanti articoli erano citati un certo numero di volte, quello che si chiama H-Index. In Italia ci sono stati un gruppo di coraggiosi ricercatori che hanno messo questo sito Top Italian Scientist dove facevano praticamente un catalogo delle citazioni e allora io mi sono subito incuriosita e ho detto vediamo di estrapolare le donne perché per tutta una serie di cose è più facile avere dei laboratori propri e essere citati se si è uomini. E quindi ho fatto questo accessimento, ho scritto a queste donne dicendo se volevano far parte di un'associazione, di un club. All'inizio eravamo 40 e siamo state presentate in Regione Lombardia dalla presidentessa della Fondazione Onda che è la Francesca Merzagora a cui sono sempre grata e piano piano si è istituita diciamo una rete e ho scelto le donne nella ricerca biomedica perché chiaramente se fossi andata in altri campi come quello della fisica avremmo avuto una marea di donne che sono anche piuttosto brave secondo me a farsi valere, ne abbiamo tante, tanto per cominciare con la Fabiola Giannotti e vari altri. Mentre la ricerca biomedica aveva secondo me bisogno di questo incoraggiamento. Difatti cosa speri di ottenere in quanto presidente dell'associazione Top Italian Women Scientist? Facciamo molte cose anche divertenti ad esempio insieme a un gruppo di donne diciamo imprenditrici che si chiamano European Women Development Development and Management. Organizziamo tutti gli anni a Reggio Emilia, anzi quest'anno nel 2022 sarà a Modena un convegno a tematica biomedica dove le speaker sono tutte donne. Noi abbiamo combattuto contro gli all men panel e lo facciamo così ironicamente con all women panel, quindi moderatrici, speaker, tavole rotonde, tutte fatte da donne eccellenti che hanno raggiunto dei ruoli importanti grazie al loro H-Index e anche però alla capacità di farsi valere perché per noi donne niente scontato. Certo assolutamente e proprio rimanendo in questo contesto quali consigli daresti alle giovani donne all'inizio della loro carriera che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa della discriminazione di genere e cosa diresti a te stessa se potessi tornare indietro nel tempo? Interessante domanda. Allora sicuramente è molto importante avere una serie di istruzioni secondo ogni tanto mando delle istruzioni per l'uso. Bisogna secondo me scegliersi dei mentor, delle mentori perché è importante parlare con qualcuno e capire da chi ci ha preceduto quali potrebbero essere le mosse giuste. Bisogna avere delle strategie, spesso e volentieri nel campo della ricerca si fa un po' così, cioè si basa sulla creatività, invece un percorso di carriera va organizzato, va costruito il curriculum, il curriculum va riempito di tante cose, gli americani sono molto più bravi perché ci mettono anche se sanno giocare a baseball o hanno che ne so portato il giornale vicini quando erano bambini, quindi hanno un concetto del curriculum molto più completo rispetto al nostro. Bisogna porsi delle priorità e degli obiettivi, nel senso io effettivamente a un certo punto volevo fare il direttore di un laboratorio e quindi ho lavorato a quello, ma non è detto che debba essere per forza l'ambizione di tutti, può essere anche che uno vuole avere un maggiore equilibrio tra vita e lavoro o che vuole occuparsi di aspetti per esempio nella medicina più rispetto alla psicologia che alla molecola, quindi secondo me per andare da qualche parte bisogna sapere che cosa si vuole e questo ci dà un po' gli strumenti per raggiungerlo. Io se potessi tornare indietro cambierai tantissime cose, innanzitutto il mio carattere perché sono sempre stata molto determinata e poco incline ai compromessi, cioè rivedendo le cose probabilmente se avessi contatto fino a dieci più volte le cose sarebbero state più semplici, quindi creare rete, crearsi un po' di diplomazia, diciamo potrebbe essere una buona via. Dunque quali sono le tue speranze per la prossima generazione di giovani donne nel campo della medicina? Io vorrei che le giovani donne non smettessero di combattere, devo dire che ci sono dei cambiamenti epocali nella società che le ragazze della mia generazione hanno combattuto per diritti civili, per diritti della persona e che ci stiamo perdendo. Vorrei vedere più giovani donne impegnate e anche rischiare per ottenere cose che stiamo perdendo. Quando noi andiamo a vedere nella storia o anche nella cinematografia, cosa è stato fatto per ottenere semplicemente il voto per le donne o il diritto al divorzio o in qualche modo poter scegliere di essere gender fluid, c'è tante cose che ho il diritto alla vita o di poter decidere per esempio è un'eutanasia, abbiamo tante cose che in qualche modo sono spesso rimaste battaglie di noi anziane e che dovrebbero conquistarsi più le giovani. Io vedo per esempio che mentre veramente dovevo pestare i piedi per ottenere delle cose per il mio lavoro e la mia carriera, spesso le mie collaboratrici bravissime, intelligenti si aspettano che sia io a togliere le castagne del fuoco. Professoressa è successo questo, professoressa potrebbe fare questo per me, non so come fare, non so e tendono a subire delle volte anche quelle che potrebbero essere delle ingiustizie. Quindi vorrei che le ragazze, le giovani, le studentesse, le scienziate fossero volitive, si aggregassero e riconquistassero cose che purtroppo stiamo perdendo. Assolutamente, mi sembra un'ottima prospettiva futura. Adriana, grazie tante per il tuo tempo e per aver condiviso con noi i tuoi pensieri e le tue idee riguardo le donne nella scienza. Grazie, grazie a voi. Per ulteriori informazioni visitate il sito web del progetto Caliper all'indirizzo www.caliper-project.eu www.caliper-project.eu www.caliper-project.eu